Benvenuto 2015, il freddo non ha fermato le feste organizzate in tantissime piazze della provincia di Lucca. Tanta gente a Castelnuovo e a Lucca, due feriti a causa dei botti di Capodanno. Un tuffo da record per salutare l'anno, oltre 200 temerari hanno sfidato le acque gelide di Ghiereggio per festeggiare in modo originale 2015. Riccardo è il primo nato all'ospedale di Lucca, il 2015 è iniziato nel migliore dei modi per una giovane coppia albanese. Lo sport e il calcio, primo allenamento per la Lucchese, prima seduta del nuovo anno per i rossoneri ma senza i neoacquisti annunciati dal direttore generale Galli. Il Viereggio vuole la Serie D, la squadra bianconera domenica in campo per la prima di ritorno di eccellenza da capolista contro il Piombino. Buonasera e buon anno, ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi che ovviamente apriamo con i festeggiamenti per il 2015, come dicevamo ieri davvero una serata freddissima che però non ha fermato le tante feste organizzate in piazza. Benvenuto 2015, è stata una notte freddissima, gelida quella che ha dato il saluto al nuovo anno. Le temperature rigidissime hanno frenato solo in parte le molte feste organizzate nelle varie piazze della provincia di Lucca. Cominciamo da Castelnuovo Garfagnana dove la manifestazione organizzata dal Comune e dall'Unione dei Comuni insieme a Noi TV ha richiamato in piazza Umberto tanta tanta gente. Tra balli e brindisi guidati da Fabrizio Di Ulaiuti, l'ambiente si è scaldato richiamando le persone che prima avevano festeggiato nei ristoranti della città oppure nelle proprie abitazioni. Il sindaco Andrea Tagliassacchi ha ringraziato l'organizzazione dell'evento e ha mandato un messaggio a tutti i telespettatori. Quindi è bello essere qui perché è un segnale di incoraggiamento a tutti noi, è un segnale di incoraggiamento e di speranza. È un segnale anche a quelle persone che magari in questo momento sono a casa e non ne hanno voglia, magari non hanno voglia di festeggiare perché è un momento difficile. Io ho visto salire le scale del Comune in questi mesi a tante persone che hanno chiesto aiuto, che sono in difficoltà. Non a tutti siamo ancora riusciti a dare una risposta, però io vorrei dire a loro che non sono sole neanche stasera e che questa festa è anche per loro e che noi ci saremo nei prossimi mesi e nei prossimi giorni. La serata era cominciata al Teatro Alfieri dove Fabrizio Di Ulaiuti ci ha fatto vedere ed ascoltare alcune delle eccellenze della Garfagnana. Gli sbandieratori di Gallicano, la Muffrina, vari cori e gruppi musicali. Insomma la degna conclusione di un percorso iniziato dieci giorni fa con una serie di trasmissioni che hanno portato i telespettatori a conoscere più da vicino le varie amministrazioni dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. Tantissima gente anche a Lucca per il capodanno organizzato dall'associazione Don Baroni Ollus. In piazza San Martino tanta musica e come ormai da tradizione addirittura due brindisi, il secondo alla mezzanotte di Lucca, 18 minuti e un secondo dopo quello ufficiale per celebrare la meridiana che passa dalla Torre delle Ore. I premi lucchese dell'anno 2014 sono andati al ministro Stefania Giannini, all'atleta Sara Morganti e al musicista Federico Favali. A Viareggio la festa principale era stata organizzata alla Cittadella del Carnevale. Il freddo pungente ha un po' rovinato la serata, anche se molti hanno scelto di festeggiare sotto il segno della musica con gli Abba Dream e il DJ Andrea Paci. Freddo che alla fine ha favorito i locali pubblici, le discoteche, la capannina di Francesca Fortelemarmi, animata da Geri Calà, ha registrato il tutto esaurito. Sono due entrambi giovani, le persone rimaste ferite nella notte di San Silvestro a causa dell'esplosione di petardi. Vista la gravità delle lesioni sono stati ricoverati all'ospedale di Pisa. I due ragazzi, in circostanze diverse, hanno riportato ferite alle braccia e alla parte inferiore del corpo. E proprio un petardo, ieri sera, poco prima della mezzanotte, ha innescato un incendio all'interno dell'ex tribunale di Lucca. Forse un petardo, forse un fuoco d'artificio lanciato da qualche ragazzo che non ha considerato le conseguenze. C'è con ogni probabilità una bravata alle origini dell'incendio scoppiato poco prima della mezzanotte, all'interno dell'ex tribunale di Lucca, in via Carrara, nel pieno centro storico, nello stabile che ospita anche il giudice di pace. La zona centrale ha permesso che alcuni passanti notassero quasi subito il fumo uscire dalla struttura, lanciando così l'allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia a cui sono affidate le indagini. Oltre alla squadra mobile, con il dirigente Virgilio Russo, è intervenuto anche il questore Vincenzo Ciarambino. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero velocemente, rischio concreto vista la presenza di moltissima carta degli archivi giudiziari. Saranno adesso le indagini della polizia scientifica a stabilire l'esatta causa dell'incendio e a tentare di dare un volto ai responsabili. Durante la nottata, l'idro di Camaiore e i carabinieri hanno arrestato un giovane cittadino marocchino di 25 anni per tentato furto aggravato. Intorno alla mezzanotte, durante un servizio mirato contro i furti, i militari sono intervenuti in una villa dove erano stati segnalati movimenti sospetti. I carabinieri hanno notato una finestra rotta e all'interno della casa hanno scovato il giovane che aveva tentato di nascondersi dietro alcuni armadi. E questa mattina a Viareggio una tradizione, ormai possiamo definirla così, il tuffo in mare per Capodanno. Per noi c'era Roy Lepore. Per Viareggio negli ultimi anni il tuffo di Capodanno è diventato un appuntamento tradizionale che ha registrato sempre la partecipazione di un buon numero di temerari, 221 quelli di quest'anno che hanno superato il record di 213 dell'anno scorso, che sfidando le acque gelide del mare antistante Piazza Mazzini si sono tuffati, anche mascherati nel modo più originale. Come segno benaugurante dell'anno che arriva per Viareggio, vista la situazione in cui si trova la città, il 2015 si spera possa essere quello dell'inizio di una svolta. C'era anche un sindaco simbolico tra i partecipanti. È un messaggio di speranza che l'amministrazione riprenda il suo cammino. Il commissario ha fatto il suo, ma aspettiamo a gloria un nuovo sindaco che possa riportare la Viareggio agli albori di un tempo. Quest'anno l'iniziativa ha anche uno scopo sociale, perché il ricavato della vendita delle cuffie verrà donata all'associazione Aurora Francesconi. Purtroppo in ricordo della quindicenne scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Era presente anche il papà Gianmarco. Questo tuffo lo dedichiamo a lei, come sempre Viareggio ha risposto. Ogni manifestazione che abbiamo fatto per Aurora, diciamo il sole, il bel tempo, ha sempre risposto bene. E' un anno tremendo e speriamo che il 2015 ci porti della verità. Com'è la temperatura? Si sta benissimo, tra tutti i tuffi che ho fatto, questo è stato quello più caldo. Pensavo fosse più freddo a dire la verità e pensavo fosse anche peggio uscire, ma invece non è così. Da ripetere? Da ripetere? Sicuramente. Ma è freddo, perché io ho freddo a guardarmi. È freddo ma pensavo peggio. Io sono molto felice di aver fatto il bagno. C'erano anche diversi i suoi alunni. C'erano anche diversi i miei alunni, mi fa piacere tutto questo, perché vuol dire che c'è una generazione che cresce di gente sana. Allora mi auguro che il 2015 sia tutta la rovescia di vero che è stato il 2014. Fanno anche questo il tuffo di Capodanno. Mi auguro l'accappatoio. Aiaia, allora ci vuole un accappatoio. SOS accappatoio. L'acqua com'era? Freschina. Freschina? Si stava meglio l'anno scorso? No, meglio quest'anno. Più sole, molto bello. Davvero complimenti ai temerari. C'è ancora una notizia di cronaca che arriva da Viareggio, vandali in azione anche per l'ultimo giorno dell'anno. I gnoti, e possiamo vedere le immagini, hanno spezzato la testa della Madonnina che si trova nel presepe di Piazza Mazzini, realizzato come da tradizione dall'amministrazione comunale. Dura la condanna da parte dei Viareggini che questa mattina hanno appunto scoperto l'atto vandalico. Non è ancora stato determinato chi sia stato. Adesso torniamo alle buone notizie e andiamo a scoprire il primo nato, il primo nato che arriva da Lucca. Si chiama Riccardo ed è uno splendido bimbo di 3,8 kg, il primo nato del 2015 all'ospedale San Luca di Lucca. Riccardo è venuto alla luce alle 4.18 nel reparto di ostetricia e ginecologia diretto da Gianluca Bracco. Per il papà Bledian e la mamma Brisida, entrambi albanesi da moltissimi anni in Italia, si tratta del primo maschietto. Riccardo andrà infatti a fare compagnia alla sorellina Rebecca di sei anni. Alla domanda su che cosa vorrebbe per lui nella vita, la mamma non ha dubbi. Basta che sia tranquillo, felice e contento, che non gli manchi niente e poi per il resto le cose arriveranno da sole. Quando crescono diventano, cioè, che la vita gli auguri, cioè gli venga tanta gioia, poche parole. A Noè Minieri, figlia di Domenico e Michela, spetta invece la fascia di penultima nata del 2014 all'ospedale di Lucca alle 16.16 del 31 dicembre. Il record assoluto come primo nato del 2015 in provincia di Lucca spetta invece di un maschietto venuto alla luce all'1.22 all'ospedale Versilia. E c'è un'altra tradizione che ormai si ripete da tanti anni, il primo gennaio, ovvero la Marcia della Pace andata in scena nel centro storico di Lucca. In occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Pace, le associazioni, i movimenti e i gruppi laicali dell'Arcidiocesi di Lucca hanno voluto far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo, organizzando anche quest'anno la Marcia Insieme per la Pace. La Marcia è una tradizione confermata per la nostra città, come lo è in molte altre città d'Italia e del mondo, dove cristiani e credenti di tutte le religioni, ma anche uomini e donne di buona volontà, vogliono iniziare l'anno con un passo di pace, convinti che la guerra, la violenza e la divisione tra gli uomini non siano inevitabili. Per le celebrazioni della 48esima Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco ha scelto questo tema, non più schiavi ma fratelli. Molti lucchesi che hanno risposto all'appello e che si sono ritrovati nel pomeriggio del primo dell'anno alla chiesa di Sant'Andrea, sede della comunità di Sant'Egidio, per poi sfilare in silenzio per le vie principali della città, con alla testa del corteo i cartelli con i nomi delle nazioni dove ancora oggi si combattono guerre, fino ad arrivare nella cattedrale di San Martino, dove è stata celebrata la messa presieduta dall'Arcivescovo. E adesso per concludere quest'ampia pagina dedicata al nuovo anno, ascoltiamo il messaggio di augurio da parte del questore di Lucca, Vincenzo Cerambino e dell'Arcivescovo Italo Castellani. Auguri, auguri di cuore a tutti i cittadini della provincia di Lucca, ai loro sindaci che con passione governano questo bellissimo territorio. Questo è il pensiero affettuoso della Polizia di Stato della provincia di Lucca, che in queste ore, insieme a tutti i colleghi delle forze di Polizia, è impegnata a garantire il sereno passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo. Ed è sostanzialmente l'augurio che ci fa anche il nostro prefetto, la dottoressa Cagliostro, che sta trascorrendo qualche giorno di ferie, direi anche meritatamente, nella sua amata Calabria. La riflessione che dobbiamo fare è che tutti possano approcciarsi, avvicinarsi alla fine di questo anno con sobrietà, con compostezza, evitando poi quegli eccessi che possano incidere negativamente sulla serenità altrui. L'augurio forte e affettuoso va anche agli amici della stampa, della carta stampata e delle televisioni che in questi giorni, in queste ore, sono impegnati come noi a verificare che tutto si svolga tranquillamente in un clima di gioia e di serenità. Auguri di cuore a tutti. Il mio augurio lo voglio rubare quasi dalle parole note di San Francesco, il quale augurava, quando incontrava le persone, essenzialmente pace e bene. Anche io dico per il buon anno pace e bene, per pace intendo qualora la nostra vita si sia un po' complicata, aggrovigliata, perché succede che possiamo ritrovare il bandolo della matassa, il capo del filo della matassa. Per me il capo del filo, il bandolo della vita è il Padre Eterno, che si è fatto in Gesù parola di Dio per noi. che possiate e possiamo tutti, a cominciare da me, ritrovare e ritornare sempre al bando della matassa, che è Dio, la fede. E poi vorrei augurare bene, però la parola bene, pace e bene, il bene oggi come sempre è ciò che fa stare bene. Ma chi è che fa stare bene, oltre che il punto fermo, la parola di Dio che dà luce e pace ai nostri cuori? Bene è possibile nella misura in cui c'è lavoro. Ecco, io sento con voi e soffro questo grosso problema e non ho io le forze per ovviamente risolverlo, ma insieme, ritrovando forza, speranza, io credo che questo sia possibile. Allora dicendovi pace e bene, auguro davvero a tutti tanta possibilità di lavoro, perché questo dà dignità a ciascuno di noi e dà senso alla vita, oltre che partecipare al bene di tutti, a cominciare dalle vostre e nostre famiglie. Allora buon anno davvero 2015, pace e bene, nel senso che ho detto a tutti, a tutti e a tutti, piccoli e grandi, bambini, anziani, adulti, a tutti pace e bene. A Pietrasanta parcheggi gratis in piazza Statuto il 3-4 gennaio, l'ho stabilito la giunta comunale, obiettivo favorire cittadini e turisti nella visita del centro storico in questo weekend. La sosta gratis partirà alle ore 8 di sabato, 3 gennaio, e si concluderà alle ore 24 di domenica. Il Comune di Alto Pascio conferma l'erogazione del fondo anticrisi per sostenere le famiglie in difficoltà. Il bando pubblicato sul sito del Comune prevede due tipi di contributi. Il primo dedicato a contributi in denaro, buoni alimentari, rimborsi tasi, centro diurno e asilo nido. Il secondo è dedicato interamente al contributo per la tasi. L'importo complessivo del fondo è di 67 mila euro, come dicevamo, le informazioni le trovate sul sito del Comune di Alto Pascio. Chiudiamo questo Tg con un appuntamento in programma domani al Teatro dei Rassicurati di Monte Carlo, alle 21 sulle note della Misericordia, primo concerto di Capodanno organizzato appunto dalla locale Misericordia. Sul palco il trio da camera con Valeria Del Soldato, Lorenzo Giovannelli e Anna Livia Walker, musiche di Faure, Piazzolla e Ortis. È tutto per la prima parte degli RTG Noi, una breve pausa e poi ci ritroviamo per la pagina sportiva.